Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village, trasmissione di informazione dalla provincia di Teramo. Si è concluso con la firma di un documento unico, il Consiglio Comunale Congiunto tra Teramo e L'Aquila, sul delicato tema della riorganizzazione sanitaria. Le due amministrazioni hanno chiesto modifiche al decreto Lorenzin per realizzare due ospedali di secondo livello, uno nel comune teramano e uno in quello aquilano. Una giornata che ha una valenza storica, così ha commentato il sindaco Gianguido D'Alberto, all'apertura dei lavori del Consiglio Comunale congiunto tra Teramo e L'Aquila, svoltosi nella Sala Consigliare del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Tema dell'iniziativa, il delicato problema della riorganizzazione sanitaria. Raggiunto con successo l'obiettivo di arrivare all'approvazione di un documento congiunto tra le due amministrazioni comunali, guidate da Pierluigi Biondi, primo cittadino dell'Aquila di Fratelli d'Italia, e Gianguido D'Alberto, sindaco teramano del PD. Così, evitando campanilismi e rivendicazioni territoriali di bandiera, i due comuni abruzzesi si sono alleati ufficialmente per chiedere modifiche al decreto Lorenzin al fine di realizzare due ospedali di secondo livello, uno a Teramo e uno all'Aquila. Nel suo intervento, il primo cittadino di Teramo ha dichiarato che la regione è sempre stata caratterizzata da divisioni e competizioni tra territori, ma il diritto alla salute deve essere garantito in modo uguale. Dobbiamo interrompere in modo netto e radicale, sostiene il sindaco D'Alberto, la costruzione e la realizzazione di un abruzzo a due velocità, in cui l'area teatino-pescarese, con scelte del passato e oggi in continuità, va avanti in modo non sostenibile, penalizzando territori che hanno un'altissima dignità, anche e soprattutto in materia di sanità, e che vengono lasciati colpevolmente indietro. Va giù duro anche il sindaco Biondi, quando spiega che le eccellenze specialistiche sono riconoscibili e fondamentali per l'Abruzzo e che solo nell'ultimo anno si sono persi 80 milioni di euro in mobilità passiva. La maggiore mobilità attiva la si riscontra verso il Lazio, il che significa che il territorio abruzzese rappresenta una sorta di frontiera che può diventare un elemento attrattivo. Materamo ha anche un altro problema, tutto interno e politico, su dove ubicare il nuovo superospedale. Nel 2017 il Consiglio Comunale si era espresso sull'area di Piano Daccio. Oggi il sindaco d'Alberto, visto anche il dibattito che si è aperto in città, pensa di far rientrare in gioco altre zone, tra cui quella di Villa Mosca, dove insiste ora il vecchio ospedale Mazzini. In conclusione, stando alle richieste dei comuni, è probabile che l'assessore regionale Nicoletta Verì si presenti al tavolo di monitoraggio Stato-Regioni con la richiesta di quattro superospedali per l'Abruzzo. Per qualcuno sembra impossibile ottenerli, ma le oggettive difficoltà di collegamento che presenta il territorio abruzzese li rende necessari. Il Centro Antiviolenza alla Fenice di Teramo ha accolto gli studenti delle scuole superiori per un incontro informativo. Il 40% delle donne che si sono rivolte alla Fenice sono uscite dal tunnel della violenza. Il Centro Antiviolenza alla Fenice apre le porte del suo sportello di Teramo gli studenti delle superiori. Alla presenza delle giovani generazioni, le operatrici della struttura hanno tracciato un bilancio di tre anni di duro lavoro portato avanti nell'ottica della prevenzione del fenomeno della violenza fisica e psicologica sulle donne, spesso associata anche a quella sui figli. Attualmente il Centro ha in carico circa 80 donne. Responsabile di questo servizio, anonimo, gratuito, pubblico, gestito direttamente dalla provincia di Teramo e Anna Paola di Dalmazio. Il dato che maggiormente ci conforta e ci piace, che emerge dal report, è che il 40% delle donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza alla Fenice riescono ad uscire dal percorso della violenza. Oggi con questa manifestazione di apertura delle porte del Centro vogliamo mandare un messaggio al restante 60% delle donne dicendo loro che la Fenice è un luogo sicuro, che la Fenice accoglie le donne aiuta loro a rielaborare il trauma subito e a crearsi un nuovo percorso di vita. E quindi diciamo proprio a queste donne di uscire dalla solitudine e di rivolgersi con fiducia al Centro Antiviolenza alla Fenice. Le donne che arrivano al centro, che accoglienza hanno? Che ambiente trovano? Allora, innanzitutto di riservatezza e di anonimato. La donna che si rivolge a noi è protetta ovviamente dal segreto professionale e poi se decide di denunciare è una sua scelta e si recherà dalle forze dell'ordine. Il Centro Antiviolenza è uno spazio di ascolto dove le donne possono raccontarsi, possono in qualche modo confidare quella che è la violenza che subiscono. La violenza che può essere a vari livelli. Ci sono donne che subiscono solo violenza psicologica, ma comunque è un tipo di violenza che è molto grande perché va a intaccare la dignità della persona. Con voi si inizia un percorso? Sì, esatto. Si inizia un percorso, la donna ci chiede aiuto, alcune si sono già separate, altre si vogliono separare e comunque sia noi costruiamo dei percorsi individualizzati di uscita dalla violenza, sempre nel rispetto della donna, della sua volontà, dei suoi valori e dei suoi tempi. La provincia di Teramo gestisce direttamente le strutture antiviolenza esistenti sul territorio terramano. Insieme al Centro La Fenice c'è anche la Casa Rifugio Casa Maya, in località segreta, che accoglie in emergenza donne con minori che devono essere allontanate dal partner maltrattante. L'artigianato di Castelli si fa strumento di contrasto alla violenza sulle donne. Il 25 novembre il Comune ha donato scarpette rosse di ceramica a enti e associazioni sensibili al tema della violenza di genere. Il Comune di Castelli dice no alla violenza di genere e aderisce alla terza edizione della manifestazione nazionale Scarpette Rosse, realizzate dai maestri ceramisti, simbolo di lotta alla violenza e portatrici di un messaggio di amore e rispetto. L'arte è sempre stato veicolo di tanti messaggi. In questo caso specifico l'artigianato di Castelli si fa portatore di un messaggio di contrasto alla violenza di genere ma alla violenza in generale. Questa iniziativa Scarpette Rosse è un'iniziativa promossa dall'ICC, l'Associazione Italiana Città delle Ceramiche, di cui Castelli fa parte. Questi 40 centri di antica tradizione ceramica italiana, partendo da una proposta del Comune di Oristano, hanno realizzato questi manufatti, queste scarpette di ceramica per dare questa testimonianza, una testimonianza che anche il mondo dell'artigianato artistico prende parte a questo contrasto, a questa guerra che quotidianamente si combatte sul nostro territorio nazionale. Leggevo da alcuni dati che nel 2018 sono state oltre 90 le vittime del femminicidio, quindi un problema davvero stringente in cui tutti i settori della nostra società devono in qualche modo scendere in campo e quindi noi dal nostro picco al Comune di Castelli diamo la nostra testimonianza. Le Scarpette Rosse in Ceramica, esposte in Piazza Roma il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, saranno donate a enti, associazioni, personalità sensibili al tema della violenza di genere in un momento di testimonianza e riflessione. Allestita anche la mostra fotografica Ester sono io, dedicata alla compianta dottoressa Ester Pasqualoni. È una mostra itinerante che ha toccato già altre otto tappe nell'ambito della provincia di Teramo e che è una mostra di denuncia della violenza e vuole sensibilizzare quanti la vedranno e per appunto parlare di questo doloroso tema a tutti, parlare in modo diverso dalle parole con delle immagini, delle immagini forti che sicuramente strapperanno riflessioni a quanti la potranno vedere. La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo ha firmato una convenzione con la Roma Film Academy di Cinecittà, un'iniziativa che unirà mondo universitario e quello professionale. La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo e Cinecittà hanno firmato una convenzione che prevede una contaminazione tra talenti con la Roma Film Academy, un modello che unisce l'approccio metodologico e teorico con una forte propensione alla progettualità per colmare il gap tra il mondo universitario e quello professionale. Il Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Cristian Corsi. È una convenzione strategica per la Facoltà di Scienze della Comunicazione, per l'avvio di una rivoluzione della didattica all'interno di Cinecittà, ma anche una condivisione di progetti strategici sia per la didattica, sia per la ricerca, sia per quanto riguarda anche le nuove convenzioni di stage di tirocinico, le start-up all'interno di Cinecittà Roma in ambito di cultura, spettacolo a 360 gradi. È una rivoluzione storica per la Facoltà che proietta la Facoltà di Comunicazione a livello nazionale e internazionale attraverso un network di eccellenza. Nasce da una progettualità condivisa con la Facoltà e una serie di rapporti di mesi e ha avuto poi la realizzazione con un protocollo di intesa affinché la collaborazione potesse diventare strutturale per sei anni con la Facoltà e Cinecittà. Apriamo un percorso di formazione universitario a tutti gli iscritti dei corsi di formazione di Cinecittà Roma con una modalità organizzativa straordinaria attraverso la quale i docenti della Facoltà andranno a Roma attraverso delle lezioni full a riproporre gli insegnamenti del corso di laurea d'AMS. A Teramo sono scesi in piazza i bambini delle scuole cittadine insieme all'Unicef e ai Vigili del Fuoco per ricordare il trentennale della Convenzione sui diritti dell'infanzia. L'iniziativa denominata Diritti in Corso ha ripercorso gli storici traguardi raggiunti per tutti i bambini del mondo. Per celebrare la giornata mondiale dell'infanzia i trent'anni dall'approvazione da parte delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in piazza Martiri a Teramo si è svolta la manifestazione I diritti in corso, iniziativa realizzata dall'Unicef, dal Comune e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo. L'evento è stato inaugurato dalla sfilata di un corteo di bambini in rappresentanza delle scuole della città, arricchito per l'occasione con pannelli che illustrano i principali diritti della Convenzione. Il trentennale della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è un momento importante perché vede Unicef impegnata in prima linea in tutta Italia e nel mondo a ricordare la Convenzione. La Convenzione è un momento fondamentale perché ha permesso nel mondo la modifica pensata di tanti legislazioni, di tanti stati, proprio nel migliorare quello che è il rapporto con i bambini, dalla nutrizione al diritto alla vita, all'uguaglianza, a rispettare le minoranze, le diverse abilità, un momento importante che anche Teramo festeggia con una serie di eventi nella giornata odierna del 20 novembre in cui cominceremo un primo percorso i diritti in corso, inaugureremo per il Corso San Giorgio un momento in cui saranno presenti delle bandiere con un riassunto dei diritti principali dei ragazzi, cammineremo durante tutta la passeggiata per il Corso, ci incontreremo all'ipogeo, un secondo momento ancora importante è ora di dare spazio e voce ai bambini, parleranno loro di come percepiscono i diritti, la Convenzione, di come la percepiscono a scuola e in casa e quali loro futuri idee possono tornare davvero utili. Poi nel pomeriggio intorno alle 18, grazie anche all'aiuto dei Vigili del Fuoco, illumineremo GoBlu il Duomo di Teramo e nei prossimi giorni oltre 2.500 passaporti di diritti verranno consegnati a tutti i bambini delle elementari. C'è tanto ancora da fare, tanto si è fatto chiaramente in questi ultimi 30 anni, è chiaro che noi come istituzioni c'è un aspetto che mi colpiva particolarmente che è quello dell'ascolto, dobbiamo sempre di più aprirci all'ascolto dei bambini e delle nuove generazioni perché spesso ci danno un punto di vista completamente diverso rispetto a quello che abbiamo. Una giornata importante nella quale sono stati riaffermati i principi fondamentali che sono la base della Convenzione e che danno la possibilità di difendere, promuovere e celebrare i diritti dei bambini, partecipando a dialoghi ed azioni che contribuiscono a favorire una più forte sensibilizzazione sulle tematiche. Si viverà un Natale da favola a Teramo con luminarie, eventi culturali e mercatini tipici. Si comincia il 30 novembre con l'ambizione di richiamare i visitatori da tutta Italia. L'iniziativa vede uniti Comune, Provincia, Camera di Commercio e commercianti del Centro Storico. Teramo si vestirà a festa per l'arrivo del Natale, un vestito luminoso che abbaglierà i visitatori ma anche culturale e gioioso, con tanti eventi a partire dal 30 novembre. L'intera iniziativa prende il via con la firma del protocollo d'intesa tra Comune, Provincia, Camera di Commercio e Consorzio dei Commercianti. Tra le novità, la via Capuani, illuminata dalle parole di Ivan Graziani, è un trenino gratuito che collegherà il parcheggio di Piazzale San Francesco al Centro Storico. Continuiamo su questa strada alla luce dell'evento dell'anno scorso, cercando di migliorare ulteriormente sia sotto l'aspetto delle luminarie e degli allestimenti sia sotto l'aspetto degli eventi che nei prossimi giorni presenteremo. Le luminarie hanno delle novità importanti e alcune conferme. Le conferme riguardano i Tigli, dove il Bosco Incantato continuerà ad essere installato con dei potenziamenti e soprattutto dei contenuti nuovi, quindi tante fiabe, tanti appuntamenti che faremo lì proprio dedicati ai bambini. Stessa cosa Piazza Sant'Anna che sarà dedicata con spettacoli e alcuni appuntamenti mattutini, soprattutto di domenica, sempre ai bambini. Piazza Sant'Agostino che mantiene una vocazione no gastronomica con degli aperitivi e tanta musica, tanti eventi di musica su quella piazza. Piazza Martiri che ha la novità di accogliere il mercatino. Chi ha progettato tutto questo? L'abbiamo fatto insieme ai commercianti, sempre con questi quattro enti, insieme a degli architetti che ci hanno dato chiaramente una mano a pensare tutto questo nuovo Natale della Mano, anche partendo da alcuni magari errori che l'anno scorso avevamo fatto, soprattutto sui mercatini, sulla parte commerciale. Quest'anno abbiamo puntato appunto su Piazza Martiri perché sicuramente abbiamo più richieste su Piazza Martiri. Chi verrà a Teramo che cosa troverà? Chi verrà a Teramo troverà certamente una città meravigliosa. Abbiamo questa anche installazione molto molto particolare su Via Capuani dedicata ai Man Graziani con le sue canzoni. Quindi insomma ci aspettiamo tante persone, tanti appassionati da tutta Italia, spinti anche da questa novità molto importante. Grazie di averci seguito, vi lascio alla rubrica sulla formazione professionale curata da Luigi Di Teodoro, responsabile formazione del gruppo Consorfon. Questa sera Luigi illustrerà le opportunità professionali che si possono cogliere diventando operatore sociosanitario. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a tutti.